Gli studenti universitari terramani conquistano una prima vittoria sui trasporti. L'Udu Teramo ha infatti annunciato che è stata istituita una zona free riding tra le sedi di Colle Parco e la mensa universitaria. Il free riding permetterà agli studenti di potersi recare a mensa gratuitamente dalle sedi di Colle Parco e di fare il viaggio inverso altrettanto gratuitamente. Siamo entusiasti per l'installazione anche delle pensiline nella fermata della mensa, si legge in una nota. Da sempre ci battiamo per la realizzazione di una città universitaria. E a questo punto i ragazzi dell'Udu auspicano che si inauguri un tavolo permanente tra amministrazione e studenti per discutere di università e per tenere sempre alta l'attenzione sull'Ateneo, perché per l'Udu Teramo città universitaria è un progetto realizzabile. E l'istituzione della zona di free riding è un vero e proprio punto di partenza, perché i trasporti sono assolutamente da rafforzare con la razionalizzazione delle corse urbane e la reintroduzione della linea 7 nelle due ore di sospensione del servizio. Poi c'è la richiesta dell'aula studio in centro, l'idea che si passi da una segreteria studenti unificata ad una segreteria per facoltà, in modo da supplire maggiormente a quelle che sono le richieste degli studenti, quali spesso perdono intere giornate anche solo per fare una semplice domanda al personale universitario.